ciao le belle stasera la buonanotte ve la voglio dare attraverso questo canto che è un canto che ho scritto tempo fa per la comunità gesù risorto è un canto che è ispirato ad un salmo attraverso cui il signore ci dice che siamo tutti preziosi ai suoi occhi insieme nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amén signore tu mi scudi e mi conosci penetri da lontano i miei pensieri tu conosci tutto della vita mia e poni su di me la tua mano sei tu che mai tessuto dentro il seno di mia madre in gran segreto come un prodigio sono agli occhi tuoi e io ti loderò per il tuo amore Dio quante volte mi ha guidato la tua mano la tua destra mi ha condotto se salgo fino a te se salgo in cielo tu ti prendi cura di me e anche negli inferi resti accanto a me vedi io prenderò le ali dell'aurora e anche se il buio si farà l'oscurità risplende come il giorno se tu sai con me se tu sai con me niente di me ti era mai nascosto quando le tue mani quando le tue mani mi hanno creato tu conosci tutto fino in fondo chi sono io e sul tuo libro è scritto tutto di me ma scrutami mio Dio conosci dentro il cuore mio i miei pensieri e le mie vie rivolgi verso te o mio Signore Dio quante volte mi ha guidato la tua mano la tua destra mi ha condotto fino a te se salgo in cielo tu ti prendi cura di me e anche negli inferi resti accanto a me ed io prenderò le ali dell'aurora e anche se il buio si farà l'oscurità risplende come il giorno se tu sei con me se tu sei con me dove andare lontano dal tuo spirito ovunque andrei so che per me per sempre ci sarai tu ci sarai per me per sempre ci sarai sì tu ci sarai tu ci sarai per me per sempre ci sarai sì tu ci sarai per sempre 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 ci sarai sulle persone che portate nel cuore scenda la benedizione di Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo Amen Buonanotte a tutti, vi vogliamo bene